Si aprono spiragli per l'avvertenza che riguarda gli 84 lavoratori della Yokohama di Ortona. Dopo la riunione avuta con il Ministero dello Sviluppo Economico, è infatti stato reso noto dall'assessore regionale alle attività produttive Mario Febo l'interesse di un gruppo lombardo. Nei prossimi giorni sono attese novità. Dopo l'ultimo incontro che c'era stato qui in Regione, c'è stato l'interessamento da parte di un gruppo solido della Brianza che sarebbe interessato. Ho comunicato doverosamente questa notizia sia alla Yokohama sia al Ministero. Mi aspettavo che oggi, dopo 45 giorni dall'ultimo incontro che c'era stato, ci fosse stato un approfondimento quantomeno da parte della Yokohama, che invece non c'è stato, anzi addirittura ha cercato di evitare questo confronto. Quando il Ministero ha ribadito che invece loro avevano contattato questa azienda e c'è questa disponibilità, questa ipotesi, sono stato delegato dal Governo a mettere in contatto le due aziende per cercare di trovare una ipotesi di soluzione. Quindi non è che sono buone notizie. Quanto meno iniziamo una trattativa e un percorso che è difficile, lungo, ma comunque almeno si apre uno spiraglio. Strada, però, ovviamente, come diceva lei, non semplice da percorrere. I tempi eventuali di questo incontro tra le parti? No, guardi, la riunione è appena finita. Sto aspettando ancora che il Governo mi chiama, così come mi aveva detto, quindi, caso mai più tardi, completeremo la comunicazione. Ma credo che i tempi siano abbastanza lunghi, ci sono difficoltà, c'è la disponibilità da parte del Governo regionale e del Governo nazionale ad intervenire a sostegno di questa avvertenza, come delle altre, perché chiaramente siamo interessati a coprire tutti i territori, ma chiaramente adesso non posso rispondere. Nei prossimi giorni magari ci risentiamo.